buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel breve video tutorial di oggi andremo a vedere il funzionamento di un aggregatore cross chain molto molto interessante sto parlando di o 3 swap andiamo a vedere il suo funzionamento dopo la sigla amo su defy station su bsc e questa volta andiamo ad analizzare la numero 9 in classifica o 3 swap chiamo su o 3 swap e andiamo a cliccare su official website per portarci a questo suo app eccoci su o 3 swap che è una piattaforma cross scene è un aggregatore di protocolli defy che ci permette di cambiare token e cripto valute all'interno di un ecosistema veramente ampio cross chain vuol dire che possiamo scambiare token non soltanto nella rete proprietaria in questo caso e tirium ma possiamo su un'unica piattaforma collegarci a diverse block chain farle interagire tra di loro e riuscire ad ottenere gli scambi migliore più vantaggiosi hanno una velocità incredibile questi sono un esempio di alcuni decks che possiamo utilizzare dove noi possiamo interagire tramite o 3 swap essendo un aggregatore di liquidità ovvero integrato con i più grandi scambi come possiamo vedere decentralizzate su diverse reti o 3 swap riesce a trovare la migliore offerta al momento in cui noi vogliamo interagire con questo protocollo e ci permette così di ottenere dei prezzi veramente vantaggiosi attualmente può interagire con il tiro ovviamente la baina smart chain la iq chain e la neo chain il network di questo protocollo è stato verificato da due società importantissime che si occupano proprio dei livelli di sicurezza di questo protocollo li possiamo vedere in sovraimpressione questo è il primo security o di tre port e questo è il secondo o dit che hanno ottenuto vi lascerò comunque tutti i link in descrizione per poterli andare a visionare se avviate piacere andiamo velocemente in fondo alla pagina l'home page del sito per andare a vedere i partner all'investitore abbiamo baina smart e nio uo b eco chain poli network cripto differ the five pools e poi tutti questi investitori importantissimi andiamo per un secondo a vedere le community partiamo da twitter dove attualmente conta 102 mila follower e per quanto riguarda la community telegramma ufficiale 86 mila 747 utenti al momento dalla registrazione di questo video per poter avviare lo suo è facilissimo basta andare in alto vicino al bottom home c'è proprio scritto swap clicchiamo col tasto sinistro e da quando possiamo interagire all'interno di questo swap possiamo connettere il nostro meta mask e vedete che possiamo scegliere di interagire con il blog scende tiri un bsc wallet eco wallet luobi e il mio wallet per quanto riguarda il mio wallet come vedete abbiamo due possibilità diverse la connessione con lo 3 wallet vi farò poi un video dedicato questo portafoglio oppure utilizzare il mio line se non sapete che cos'è meta maschè il suo funzionamento ma soprattutto come settarlo per queste tipologie di cene vi ricordo che meta maschè una volta che lo scaricate è settato sulla rete e tiri un quindi da solo può interagire con e tiri un dopodiché se volete utilizzarlo per la baena smart scene per la uobi cene e così via dovete impostare le cena all'interno di meta maschè è più facile a farsi che a spiegarsi vi lascerò il link a fine video in descrizione al video per poter settare meta maschè in pochi secondi supponiamo che abbiate già scaricato meta maschè settato con tutte le 100 disponibili per questo swap non dobbiamo far altro che cliccare su connetti wallet partiamo semplicemente dai tiri un clicchiamo su connette meta maschè in automatico vedete che appare una parte del mio adressa in alto a destra c'è il simbolo di etiri un quindi io in questo caso posso scambiare interagire con la blocce indietro e fare lo swap con sempre i token all'interno da blocci indietro perché non possiamo vedete che sono illuminati questi di etiri un sono evidenziati mentre quelli della baena smart scene uobi global e neocene non sono evidenziati perché perché al momento io ho sbloccato solo meta maschè per quanto riguarda e tiri un quindi posso solo interagire che la voce indietro ma io volendo approfittare di questa opportunità cross scene e voglio anche andare a scambiare su bianna smart scene su obi global devo fare lo stesso procedimento devo cliccare su con net wallet scegliere la bianna smart scene vedete che anche su bianna smart scene in automatico meta masch ma ha preso l'address in alto a destra o etiri un e bianna smart scene voglio con connettere anche lui obi faccia lo stesso procedimento e adesso in alto a destra o etiri un bianna smart scene uobi chain a questo punto io posso scegliere quale cene utilizzare per fare lo swap per esempio clicco su bianna smart scene voglio scambiare queste briciole di bnb per fare una prova lo voglio scambiare o sempre con la baena smart scene oppure con etiri un cene possa andare ad esempio scambiarli con tether clicco su massimo qua sotto e clicco su rf q calcola lo swap ci sono tutti i dati disponibili e mi permette di ricevere questo scambio vedete qua sotto che la transazione parta della bianna smart scene per chi voglio scambiare bnb e arriva alla bloccente tiri un perché io voglio ricevere usdt vedete qua il cambio come avviene bnb v wrap in bnb usd si o 3b usd e alla fine finisce con tether quello che io voglio ricevere per confermare lo swap basta cliccare su conferma e ovviamente adesso non lo faccio perché un euro e un dollaro e 35 2 sd t è assurdo da fare uno swap però cliccando qua su conferma in automatico fallo swap e io me lo ritroverò su metamask andando su hub noi possiamo fornire liquidità alla piattaforma e andare a ottenere delle reward come potete vedere apr 29 vigola 79 per cento 27 per cento 41 per cento per raggiungere liquidità è semplicissimo basta andare ovviamente su deposito e noi possiamo andare a inserire le quantità di liquidità da inviare al servizio allo stesso tempo ne possiamo andare a rimuovere la nostra liquidità cliccando su volte noi possiamo andare a mettere in steghi i nostri token ad esempio possiamo fare lo swap possiamo fare il passaggio da diverse ma in net su e tirium noi possiamo anche andare a mettere in steghi il proprio il token o3 cliccando su stake e ci possiamo collegare direttamente a metamask qualora avessimo oltre nel portafoglio ne potremmo metterli in steghi per una pr del 94,15 per cento il token è un token utility un token governance come vedete sul market cap al rank 2.563 con un valore attuale di 4 euro rigola 33 centesime oscillazione positiva nelle 24 ore di 8,75 per cento un rifornimento totale di 32 milioni di token quindi molto basso anche il rifornimento totale possiamo andare ad acquistare a scambiare oltre ovviamente su gate punto io uobi global e panchic swap coin ex non mi sto soffermando sui vari pool e i vari scambi che cosa sono gli lp perché hanno già parlato diverse volte nei miei video precedenti vi invito qualora non sappiate bene cosa sono queste definizioni andare a sfogliare video precedenti dedicati alla defa ea questi swap perché ne parlo più e più volte la parte qui sotto dashboard blog governance al momento sono ancora disattivate verranno attivate nei prossimi mesi una cosa che dobbiamo ricordarci e quando andiamo a effettuare uno swap le file andremo a pagare su e tirom in e tirom by na smart chain su con bnb e così via quindi se noi vogliamo scambiare un token dalla blog scende tiro alla baena smart chain le fi saranno ad esempio con e tirom un'ultima cosa prima di salutarvi vi faccio vedere che andando su quel market cap su o tre suop ma questo vale per tutti i tocchi nel tutte le cripto valute se cliccate sul contratto più precisamente dove c'è la volpe di metamask ad tu metamask in automatico senza andare a impostare contratti decimali e simbolo vi aggiungerà le token che desiderate all'interno di metamask in questo caso o tre suop facendo tranquillamente aggiungi token infatti se andate su metamask e tiri una rete principale vedete che se ha aggiunto o tre token per acquistare o tre token bisogna andare su panchic suopo aver settato metamask correttamente con la chain vi lascerò il link in descrizione per poterlo fare in pochi semplici fassi supponiamo di aver già aspettato tutto correttamente cosa dobbiamo fare una volta che siamo su pancake facciamo connetti wallet metamask in automatico vedete che in alta destra ha preso il mio address dopodiché si va su trade exchange si va a selezionare bnb nel caso vogliamo scambiare bnb per quanto riguarda l'acquisto di o tre swap si deve andare qua sotto seleziona currency si può mettere o tre vedete via pancake top 100 importa ok e adesso noi volendo possiamo scambiare il nostro bnb per ottenere o tre swap è in automatico ci verrà accreditato all'interno di metamask dopodiché noi possiamo spostarci sullo swap e possiamo fare le nostre operazioni che vogliamo anche mettendo in staking il nostro token o tre swap che come abbiamo visto prima da anche un interesse molto alto siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento se non l'avete ancora fatto vi invito di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui miei video di unire la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi di lasciarmi un like per supportare il mio lavoro noi ci vediamo domani ciao a tutti ciao a tutti